E' un vero piacere oggi avere qui nel nostro centro turistico Acli di Formia, Libero Mancini, il responsabile delle Acli di Gaeta, che insieme in quest'anno abbiamo deciso di organizzare una bellissima manifestazione sotto il nostro viaggio organizzato, proprio a Pisa, in occasione delle luminarie di San Ranieri. Saranno due giorni incantevoli dove finalmente vedremo il CTA con le Acli di tutta la provincia di Latina ben riuniti. Andremo in questo luogo, uno per visitare quelle che sono proprio le luminarie, una bellissima festa, come dicevo, con 250.000 lumini che colorano questa cittadina di sera. E inoltre andiamo proprio come rievocazione nostra delle Acli per ricordare quello che è Papa Gelasio, secondo il nostro Papa di Gaeta. E passo la parola a Libero così spiegherà per bene tutto quello che concerne proprio questa celebrazione. Grazie a Francesca che è la nostra, uno dei migliori in gamba organizzatrici del centro turistico. Ne abbiamo avuto tante nel passato, posso dire che abbiamo avuto anche altri problemi. Però da anni a questa parte il centro turista delle Acli è molto attivo, direi frezzante per le iniziative che riesci a prendere, e a convogliare tanti amici della zona in questi luoghi che poi vai da tutte le parti, vai all'estero, vai in Italia, fai tante belle cose. Pure io ho goduto nel passato, insieme a tanti amici del Golfo di Gaeta, di viaggi col centro turistico. Siamo stati fino anche nel paese del natio del Papa Voitira. Siamo stati in Spagna, in tante parti, dove ancora le Acli organizzano questi tour prevalentemente turistici. Qual è la diversità di questa iniziativa? La diversità consiste in questo, facendo vedere questa piantina, che poi è l'Italia, in cui ci sono dei percorsi. Noi stiamo da otto anni ripercorrendo, ricalcando, rispolverando la storia del più illustre cittadino di Gaeta, che poi può essere tranquillamente considerato più illustre cittadino del Ducato di Gaeta. E questo è l'argomento principe. Il Ducato di Gaeta con tutto il suo splendore, che raggruppava i maggiori comuni che attualmente esistenti, nel sud Pontino, Fondi, perché era la città dei genitori di questo Papa, Caetani, Gaeta stesso, intorno ai centri storici prevalenti, senza voler scartare nessun altro, perché ci sono anche altri centri minori, seitri, seiteri, 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 tutto il Ducato. Noi speriamo che questa gita storica, culturale e religiosa riesca bene. Abbiamo ancora dei posti a disposizione su un pullman appositamente organizzato. e qui Francesca è a disposizione col suo ufficio per le adesioni e speriamo che siano numerose e che soprattutto la nostra iniziativa sia ben accetta a tutti gli altri amici del Golfo di Gaeta. Grazie e buon divertimento, lo possiamo dire, Francesca. Ti ripasso la parola per un saluto finale. Allora saluto tutti per questo ascolto e volevo soltanto precisare che oltre a questo viaggio comunque il CTA che si trova a Formia propone tantissimi altri viaggi, sia culturali, religiosi e anche a volte di divertimento che si svolgono prettamente per ragazzi. Quest'anno come media importante, oltre a questa di Pisa, avremo un bel tour in Croazia nel mese di luglio e un tour in Sicilia, Sicilia occidentale, nel mese di agosto. Inoltre poi abbiamo dei tour religiosi, quello di Medjugorje a settembre e la Terra Santa a ottobre. A correde gente. Ok, grazie ancora.